Ciao, io sono Stefano, lui è Alessio, Jessica, siamo i titolari di Trim Barberia e parrucchiere, uomo e donna, e questo è il nostro negozio, bellissimo, e parrucchiere non solo, perché all'interno del negozio si svolgeranno anche altre attività, tra le quali il corso di scrittura creativa, il nostro docente sarà Giovanni Cocco, e saranno dieci lezioni per imparare le nozioni fondamentali per diventare un romanziere. Qui da Trim, ciao! Ciao! Saluta! Ciao!